Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Sfogati in silenzio Minchia ieri è stato incredibile su Outlast No, non mi lasciare per favore Ma, su Outlast è devastante Pensa tipo col coso, col... Col piano Sì, sì, sì Ma ti piace ballare? Sì, sì, mi piace E tu nel senso... Nella vita faccio questo e poi adesso lavoro anche tra poco Cioè devo iniziare un lavoro Cosa farai? Lavorerò in un negozio di abbigliamento Ah, ok, bene E cosa hai studiato? Social boom... Ma in realtà io ho guardato anche qualche live di social boom Non è malvagio secondo me Cioè... È anche in grado di intrattenere, a mio avviso E infatti mi dispiacerebbe metterlo in non mi piace in realtà Perché secondo me non è così... Non è così malvagio Ehm... Però... Cioè... Se consideriamo tutto... Nuova? Sì, è nuova No, no, non è nuova È vecchia, idiota Mamma mia Oh... Cioè... No, 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 no Porca di quella puttana Di quella puttana Di quella puttana Di quella puttana Sciuto un po' doppio Sì, 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 sì Comunque Vabbè, David, prego Anale Hai bisogno di un altro drink David... Dosa da un po' meglio, per favore Vabbè, ok Scusa Adesso abituato a fare domande Andiamo con calma Piano piano entriamo nelle domande Come la descriveresti? Eh... Hai visto il colore del sito su cui siamo? Un giacchino? Chiudi perché... Che? La... Ma è cardigan mio! Ecco, eh? Perché? Dicevi... Una ragazza ideale No, ma la sto capendo Perché devo usare... Il cardigan Il cardigan Ecco, così si chiama Qual è la discoteca dove vai tu a Yeso? Allora... Eh, vado... Non ancora Perché comunque ho 16 anni Quindi... A meno che, appunto, non... Non riesca a entrare in serata solitamente Cioè, comunque posso... Mi sarei sparezzata così tanto No, non mi ricordo, ragazzi C'ho un... C'ho proprio un... I cannoni quando? I cannoni... In... In... In quarta In quarta L'anno della quarta, credo Sì L'anno della quarta O quarta Sì Le canne in quarta Periodo canne in quarta Forse anche quinta Però po' Il mio cappellino è comunque completamente clissato Dov'è il mio cappellino? Aspetta che ti ridò la tua sedia Giulia è il mio cappellino Il problema non è la sedia Il cappellino Eccolo Il cappellino completa l'auto Una roba divertente perché è un mio carissimo amico D'infanzia Che sento ancora Che attualmente è uno dei... Uno di pochi grangosti ancora È uno dei... Sì, uno dei tre miei migliori amici Quattro Più amico di me Quattro Eh... Più o meno Perché lui è... Giovanni... Non dovevo dirlo Vabbè Comunque No, vabbè Però a lui in passato Le è capitato tanti 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 anni fa Questo è divertente Che aveva conosciuto una tipa su Facebook Lui si chiamava... Allora, tra l'altro Non avremo neanche... Spero problemi tecnici Ora me la sono proprio tirata Infatti adesso mi prendo le palle Me le stretto un po' Bello Ho paura Mi ha grabato Mi ha grabato Mi ha grabato Mi ha grabato Che tua madre Venga grabata Da un gruppo di cazzi Di cazzi Perché è una puttana Tua madre, bibino Me la inculo io Me la inculo io Me la inculo io Glielo infilo talmente dentro del culo Che anche i coglioni gli entrano Bipino glorioso Tua madre è una puttana ingoiatrice di cazzi I coglioni gli ficco a quella puttana Figlio di puttana Figlio di puttana Uomo di merda Fallito dal cazzo Aveva di merda Rifiuto umano Rifiuto umano Rifiuto umano Tu è quella puttana di merda Spero che facciate una vita di merda Ciao grande Ma Ma porco Giuda David Non me l'aspettavo Adesso manco la notifica arriva Beh almeno adesso staremo davvero in 500 Eh non so che cosa dire ragazzi Cioè mai successo nella storia Due blackout Non so che cazzo dirvi Cioè Non so che cazzo dirvi Adesso manco Oh adesso però saremo veramente in 500 Adesso finalmente saremo davvero in 500 Ma non me la ricordo più cavolo Less is best Vabbè molto 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 strano Ciao Ciao Non ci credo Sei Valentina Sono proprio io No Come stai? Come ti chiami? Il 15 marzo Il 16 Dopo essersela vista Anche il 15 marzo Vabbè Un po' di anni fa mi ha detto Mamma mia quanto mi ti farei Mi fai proprio Sesso Quindi per dirti che Evidentemente Non è solo il carattere Raggiù veramente Non penso di Session Viva del genere Cioè ma io per la merda ce la faccio Tutta zitta Ci sono altre persone che si sentono Adesso ho altre loro No 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 Eh perché dolcifica lo sperma Scusa Samara Eh però No perché sta bene coi tramezzini Il succo all'ananas Mangiate un tramezzino col prosciutto cotto e il succo all'ananas Ma scusami tu Nella pasta al ragù cosa ci metti? Il caviale Non lo so Un cactus Un bel succhettino d'ananas E ti mangi un tramezzino col prosciutto cotto E la tua vita migliora Migliora Ma porca di quella troia La persona sociale Dico cose stupide Dai 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 insisti Insisti Dai dai Ora Ti passiamo il link Congruro Ti mando il link Sei simpatica Sai che alta come me l'hai? Ma l'abbiamo vista insieme Scusa Scusa Nuova? No no non è nuova È vecchio Mamma mia Cioè non devo andare dalla sua avversaria A dare un bacino su piedi A dare un bacino su piedi C'è poco da dire Lasagna Lasagna Bene bene Arrivense in finale così La Juventus 10 mesi di stop Madonna Quando ci prego l'ungheri crescere Andiamo a sentire i protagonisti Pregiore il crociato veramente Agnese Lo sai che Questa non è una partita Questo non è un torneo tanto per giocare Guardami quando ti parlo E qui Dobbiamo vincere E basta Hai ragione Vai vai da Pierino